Stamattina abbiamo incontrato l'amministrazione per confermare che i componenti di Marina Group, di cantieristica, che chiaramente si erano messi un attimo un po' stand by, un po' per questioni di procedure burocratiche, un po' per la crisi che ha colpito un po' tutti i settori, abbiamo riconfermato la volontà, l'intenzione di investire. Siccome, come succede nei grandi gruppi, si fanno piani triennali, quinquennali, era importante far capire e conoscere all'amministrazione che queste realtà sono seriamente intenzionate a mettere il sito di Fano nel loro piano di sviluppo triennale. Quindi abbiamo sollecitato all'amministrazione avere un'attenzione particolare alla ristrutturazione del sistema logistico della nautica qui e intorno alla città di Fano in modo da incentivare il ritorno delle aziende che si stanno già guardando intorno. Ecco, una volta completate le opere, quindi la strada, eccetera, che cosa prevede il progetto? Il progetto prevede la costruzione di siti industriali destinati all'allestimento di barche, dove non sono prese in considerazione lavorazioni pericolose di vetroresina o quant'altro, ma allestimento di imbarcazioni e le strutture sono capaci di ospitare barche fino a 45 metri. Chiaramente tutto questo è legato anche poi alla foribilità del porto, quindi si riconduce il problema dei fanghi, del pescaggio e tutto quanto. Quindi abbiamo sollecitato l'amministrazione a prendere in esame tutto il sistema costruttivo che va dalla zona industriale, strada delle barche, capannoni al porto e fruibilità delle acque. Un investimento di quanti milioni? Parliamo ad oggi di 13 milioni di euro senza considerare quelli che si sono già spesi. Grazie.